Grazie a tutti. Me ne andavo così e il mio amico Maurizio diceva, va bene che sono vegano, ma trattato proprio come un cavolo, no? Esatto, cavolo a merenda. Adesso tu saluti tutti e dico, no, c'è il mio amico. Quindi a posto posso partire, vero? Giornata pomeriggio molto interessante, molto pesante ma molto interessante. E lo chiuderemo veramente in bellezza, perché a parte gli scherzi, che poi non sono scherzi, ma a parte la componente leggera e ludica, per cui dico che Maurizio è un mio amico, ed è vero. Maurizio è un grande tecnico, è una persona che io stimo moltissimo nell'ambito lavorativo e quindi mi piace chiudere in questo modo. Maurizio, per chi non lo conoscesse, è un professionista dell'attività dell'esercizio fisico e è molto abile anche nell'analisi della valutazione della composizione corporea. Proviene da un'area particolare che è quella del veganismo, però basta guardarlo per vedere che, insomma, è riuscito a trovare un equilibrio perché è uno spettacolo, è un fiore di ragazzo. Ci parlerà dell'esercizio fisico. Fa bene o no? Dico bene Maurizio? Assolutamente sì Paolo. E allora io mi sposto e voglio che tu mi spieghi perché fa bene. Lo farò con grandissimo piacere. Non hai molte scelte. Grazie. Non mi sembra tra l'altro un'opzione democratica. Certo, è la mia democrazia. È una sorta di tirannia illuminata la mia, lo sai, no? Guarda, ti apprezzo anche per questo, quindi. Allora, buon pomeriggio, benvenuti e a Kentannos in salute a tutti voi. Perdonate il mio pessimo accento sardo, ma è doveroso da parte mia un sincero ringraziamento alla Scuola dello Sport della Regione Sardegna che mi ha concesso la possibilità di partecipare a questo straordinario evento. Ma a proposito di salute, quindi per rispondere un po' alla domanda postami da Paolo, quante volte avrete sentito la frase «Fai attività fisica perché fa bene alla salute». Ecco, il mio obiettivo, o meglio, la mia sfida di oggi è proprio quella di cercare di ridare e riconferire dignità e valore ad un concetto che si rivelerà estremamente importante proprio per la nostra salute. Ma perché ci tengo così tanto a parlarvi di salute, pur non essendo assolutamente un medico? Beh, perché dovete sapere che circa dieci anni fa io la salute ho rischiato di perderla, definitivamente, perché ero ridotto in fin di vita in un letto d'ospedale, tra l'altro a causa di un intervento chirurgico di routine, come quello della ricostruzione del legamento crociato anteriore. Era esattamente il 28 luglio del 2011. Sono stato ricoverato per circa un mese, quando la normale degenza in interventi del genere è di due, massimo tre giorni. Durante quei 28 giorni di ricovero continuativo, ho subito altri tre interventi chirurgici, causati prima da una tromboflebite e poi da una gravissima artrite settica. L'ultimo dei quattro interventi complessivi è stato necessario per rimuovere completamente sia il neolegamento, sia i mezzi di sintesi, proprio nel disperato tentativo di andare a combattere quella terribile infezione che mi aveva colpito. Enterococcus fecalis nel mio ginocchio. Ancora oggi un mistero. Ebbene, dovete sapere anche che durante il periodo di degenza, o meglio, di degenza che ho trascorso a casa, ero praticamente un'altra persona. Avevo perso oltre 12 chili, quasi esclusivamente di massa muscolare. Non riuscivo praticamente a muovermi. Anche dentro casa, per passare dal letto al divano o dal divano al letto, ero costretto ad utilizzare i bastoni per la deambulazione. Insomma, ero completamente assuefatto dai farmaci, terapia antibiotica da cavallo, antidolorifici, come se piovesse. E quando mi guardavo allo specchio, non mi riconoscevo più. Non so se anche a voi è mai capitata un'esperienza del genere. Considerate che io sono uno sportivo da sempre, un atleta da sempre. Ho iniziato a 5 anni con il nuoto, poi a 10 mi sono innamorato di una palla, e sono stato un calciatore, professionista e dilettante, giocando fino all'età di 38 anni. Però quello è stato davvero uno dei periodi più brutti in assoluto della mia vita. Un periodo nel quale ho conosciuto anche la depressione. Vedete, la depressione è una malattia bastarda perché ti lascia la lucidità di capire che stai male, ma al tempo stesso ti toglie la forza per poter reagire. è un po' come trovarsi dentro le sabbie mobili, percepire che stai per essere risucchiato, vedere davanti a te un appiglio, ma non afferrarlo, come bloccato da una forza invisibile. Ecco, da una condizione del genere si esce soltanto se arriva una vera e propria scossa, una sorta di click nella tua testa che ti fa scattare quella voglia, quella forza per reagire. Fortunatamente per me quella scossa, quel click, c'è stato. E sapete esattamente quando? Quando dopo una prima parte, un primo periodo dedicato alla riabilitazione dell'arto operato, i medici e i fisioterapisti mi hanno concesso la possibilità di tornare a praticare attività fisica. Mi hanno dato l'ok per tornare ad allenarmi. Ebbene, io in circa sei mesi non solo ho riacquistato tutti i chili persi, ma sono tornato più forte di prima. L'attività fisica mi ha fatto rinascere completamente. nel corpo e nell'anima, come una vera e propria araba fenice. Mi chiamo Maurizio Falasconi, ho 50 anni e come anticipato da Paolo sono un professionista dell'attività e dell'esercizio fisico con circa 30 anni di esperienza in questo settore. E di benefici correlati ad una corretta e costante attività fisica li percepisco e li osservo tutti i giorni, non solo su di me, ma anche e soprattutto sulle tantissime persone che hanno deciso appunto di inserire l'attività fisica in modo costante all'interno del proprio stile di vita. Ora probabilmente starete pensando che si tratti comunque di casi isolati, di casi sporatici. Bene, dovete sapere invece che in letteratura scientifica tali benefici vengono studiati e dimostrati ormai da decenni. Esistono prove inconfutabili di tutto questo che vi invito caldamente a verificare di persona. Come ad esempio questo studio pubblicato nel 2015 su una delle riviste più autorevoli al mondo che si occupa di scienza e medicina dello sport. Attraverso questo studio i ricercatori hanno dimostrato come l'attività fisica possa essere considerata al pari di un vero e proprio farmaco perché in grado di curare ben 26 differenti malattie cronico-degenerative. Si parla di malattie psichiatriche, neurologiche, cardiovascolari, metaboliche, polmonari, problematiche e disordini muscoloscheletrici fino anche ad arrivare ad alcune forme di cancro. Oppure quest'altro studio sempre pubblicato su un'autorevole rivista medica nel 2018 in cui i ricercatori esordiscono con questa frase esistono prove schiaccianti che un'attività fisica costante permette di allungare il periodo in cui possiamo godere di buona salute e al tempo stesso ritardare l'insorgenza di ben 40 condizioni cronico-degenerative. Capite perché all'inizio del mio intervento ho esordito dicendo che il mio obiettivo e la mia sfida di oggi era riconferire valore e dignità a questo concetto? Perché la letteratura scientifica ce lo dice da decenni. Ma non è tutto perché ovviamente dobbiamo anche avere indicazioni in merito a cosa fare quanto farne chi può e cosa fare. Allora per rispondere a tutte queste domande c'è questo bellissimo studio o meglio queste linee guida vere e proprie pubblicate nel 2018 sempre su una rivista medica attenzione non sul manuale del personal trainer nonostante io sia un trainer ma su riviste mediche di massima autorevolezza. Ebbene qui vengono proprio stabilite tutte le indicazioni per una attività fisica corretta ed individualizzata. Sono le linee guida per una corretta attività fisica degli americani. Ora probabilmente qualcuno di voi storcerà un po' il naso perché giustamente dirà vabbè ma noi che centriamo? Gli americani sono probabilmente distanti anni luce dai nostri comportamenti. Ok obiezione accolta allora che ne dite dell'italianissimo Ministero della Salute perché l'anno dopo ovvero nel 2019 il nostro Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida per una corretta attività fisica prevedendo tutte le fasce d'età che caratterizzano il nostro ciclo di vita partendo dall'età prescolare 3-5 anni fino ad arrivare agli over 65 ma ha fatto anche di più ha previsto delle indicazioni per quelle condizioni di vita particolari come per esempio la donna in gravidanza oppure addirittura ha previsto la possibilità di praticare attività fisica per persone in particolari condizioni patologiche o di disabilità insomma ce n'è per tutti i gusti dobbiamo soltanto metterle in pratica come dite rimaniamo siamo troppo provinciali se rimaniamo in Italia va bene allora proprio la settimana scorsa l'organizzazione mondiale della sanità ha emanato le proprie linee guida per una corretta attività fisica per contrastare il comportamento sedentario e anche l'OMS vi garantisco ho letto tutti i documenti e ha preso pari pari le indicazioni già previste ed emanate nei precedenti due documenti ok Maurizio va bene abbiamo capito l'importanza il come il quando eccetera eccetera ma adesso abbiamo un piccolo problema che si chiama covid-19 e soprattutto le restrizioni legate alla limitazione del contagio prima fra tutti nel caso dell'attività fisica la chiusura di palestre centri fitness piscine eccetera come possiamo fare anche qui ci rivolgiamo alla letteratura scientifica perché circa 130 studiosi e ricercatori di tutto il mondo si sono riuniti hanno fatto il punto della situazione hanno analizzato le problematiche legate alla trasmissione del contagio quindi alla pandemia del covid-19 ma hanno anche dato soluzioni quindi quali sono questi numeri che evidenziano il problema innanzitutto che si tratta ovviamente di una pandemia perché ha coinvolto circa 200 paesi nel mondo dove sono stati evidenziati dove sono stati calcolati oltre 35 milioni di contagi e oltre un milione di morti ma il dato più importante e più grave per i ricercatori è che esiste una seconda pandemia della quale nessuno ancora ha parlato e sapete qual è? è quella legata all'inattività fisica perché l'inattività fisica secondo i numeri dei ricercatori causa 3 milioni di morti l'anno e allora diventa estremamente preoccupante l'analisi dell'aumento dei livelli di sedentarietà caratterizzato da queste restrizioni perché è stato riscontrato un aumento del 30% dei livelli di sedentarietà quindi cosa fare concretamente? Ci dobbiamo muovere di più dentro casa fuori casa dobbiamo essere più attivi dobbiamo evitare di stare troppo tempo seduti troppo tempo in modalità totalmente off quindi sia come livelli di attività fisica sia come esercizio fisico quindi allenamento vero e proprio qual è il mio take on message che oggi è scientificamente provato che esistono tre grandissimi benefici legati a una costante pratica di attività fisica il primo è che migliora la salute il secondo è che previene le malattie il terzo è che stimola e rinforza la risposta del nostro sistema immunitario quindi e concludo Paolo ci troviamo di fronte ad un bivio dobbiamo scegliere da quale parte andare da una parte ignorare tutte queste indicazioni e rimanere comodamente seduti sul nostro divano dall'altra invece iniziare da subito ad aumentare i nostri livelli di attività fisica magari anche ad allenarci nonostante le restrizioni nonostante la pandemia nonostante tutto per assumerci definitivamente il potere sul nostro stato di salute voi da quale parte scegliete di andare veniamo tutti con te io vi aspetto anche perché ci fidiamo tutti di te ci fidiamo tutti di te grazie grazie è stato un messaggio se vuoi anche un messaggio che conoscevamo già no che pensavamo già però trasmesso con una trasporto un'emozionalità che lo rende diverso da tutti gli altri quindi ti ringrazio tantissimo volevo solo chiederti una piccola cosa che forse ti aspetterai c'è uno sciattore quarantenne che vorrebbe fare la coppa del mondo vorrebbe rientrare tua idea di come potremmo impostare scusate 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 voi che ci state ascoltando questo è un piccolo uso improprio del mezzo pubblico diciamo uso privato del mezzo pubblico no ti voglio fare una domanda Maurizio il tuo messaggio è chiarissimo al di là del fatto che ovviamente dipende dal soggetto di cui parliamo il suo pregresso e mille altre cose però in questo movimento as medicine quindi un movimento come medicina vedi che prevalentemente ci debba essere un lavoro a intensità medio-bassa o vedi invece che al contrario ci possa essere invece non ci possa essere ma che al contrario la parte predominante possa essere fatta magari da un lavoro ad alta intensità come potrebbe essere un hit per esempio beh ovviamente apriamo e chiudiamo parentesi tutto deve essere assolutamente contestualizzato ed individualizzato però dato per scontato questo fatto nelle indicazioni si parla appunto di attività sia di potenziamento neuromuscolare che di miglioramento del sistema cardiovascolare all'interno di questa seconda attività esistono queste due possibilità quindi l'allenamento che deve essere di almeno 150-300 minuti a settimana se a bassa intensità oppure 75-150 minuti se ad alta intensità io personalmente preferisco sempre l'alta intensità ovviamente personalizzata ovviamente sempre dopo una corretta adeguata visita medica che mi garantisce che il soggetto può sopportare appunto delle intensità medio-alte certo voglio aggiungere qualcosa per chi ci ascolta giustamente Maurizio dice dopo adeguata visita medica e qualcuno potrebbe immaginare che questo sia perché l'allenamento è eccezionalmente intenso no non è così è perché l'allenamento prevede anche delle parti intense ma non risulta alla fine cioè non matura un concetto di fatica recepita sia periferica che centrale diversa con un vantaggio che l'allenamento dove esistono delle parti ad alta intensità l'HIT l'allenamento intervallato ad alta intensità ha anche un ottimo effetto sull'asse cerebro-ormonale che contribuisce notevolmente a migliorare quella che è la nostra sensazione genestetica cioè come ci sentiamo assolutamente sì diciamo che questo è un vantaggio molto più intimo tra virgolette un altro vantaggio un po' più banale può essere quello di essere messo in atto con un tempo estremamente ridotto si parla del 40-50% in meno quindi in un mondo dove si va sempre di corsa e il tempo è poco allenamenti ad alta intensità risolvono questo problema perfetto ti ringrazio sei stato chiarissimo e come al solito prezioso grazie a te Paolo grazie a te Maurizio grazie grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te